welcome back da max black siamo tornati su fifa 22 oggi vi porto un squad builder pazzesco fortissimo un mix tra ligan e liga spagnola e serie a italiana vi invito subito a mettere like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto mi raccomando è importante e condividete il video partiamo dalla formazione che è un 4 3 3 molto offensivo cominciamo dal portiere neto ecco qui neto come in ogni fifa negli ultimi fifa è stato sempre un portiere affidabile anche in questo è un portiere ottimo ed affidabile quindi mettiamo lì neto costa anche poco cominciamo a mettere il difensore centrale che diego carlos ecco diego carlos difensore estremamente affidabile velocità 76 pensate un po 81 difesa 83 fisico grande affidabilità e grande intesa con neto diego carlos e devo dire che è un ottimo difensore di questo fifa 22 difensore sinistro torna l'englet ecco qui l'englet ci costa circa 1000 buon difensore velocità 72 83 difesa 79 fisico molto affidabile facciamo una bella unione di difensore centrali e possiamo andare al terzino destro qui già c'è un cambiamento di campionato andiamo in italia e troviamo di lorenzo ecco qui il classico terzino come piace a me con buona velocità e buon fisico di lorenzo rappresenta un giocatore molto affidabile molto utile alla nostra causa quindi di lorenzo al lato destro passiamo alla sinistra dove troviamo Nuno Mendes ecco Nuno Mendes un altro terzino sinistro molto utile che costa veramente poco circa 700 800 crediti 85 velocità 74 difesa 72 fisico buonissimo terzino sinistro andiamo a centrocampo a destra mettiamo il grande barella ecco qui barella 78 velocità 75 difesa 78 fisico difensore cioè centrocampista difensivo molto versatile comunque ottimo per ripartire in contropiede quindi qui barella comincia a essere interessante come altro centrocampista centrale spostato al centro sinistra mettiamo giorgino vainaldum ecco vainaldum ci fa intesa con Nuno Mendes 77 velocità 75 tiro che non è male 88 80 passaggi 86 dripling 79 difesa 79 fisico quindi molto equilibrato molto efficace buon fisico ci fa una bella intesa e quindi giorgino vainaldum e qui la prima sorpresa al centro al centrocampo andiamo a mettere memphis depai ecco memphis depai devo dire che mi aspettavo che era più veloce però va bene questa velocità 82 per essere un centrocampista abbiamo un ottimo tiro che come sapete in questo fifa 22 sono molto importanti i tiri da fuori quindi 83 tiro 82 passaggio un buon dripling 84 e un buon fisico che non me l'aspettavo quindi ho 79 di fisico che per essere un giocatore così basso per così dire non di alta statura un fisico 79 è ottimo ma soprattutto lo metto qui per il tiro i tiri da fuori sono estremamente baggati i portieri se fatto bene il tiro difficilmente qualsiasi portiere lo prende passiamo all'attacco esterno destra mettiamo chiesa eccolo qui chiesa mi piace un sacco in questo fifa 91 velocità 81 tiro stesso discorso per depai 85 dribbling in questo fifa chiesa veramente è devastante fortissimo mi piace un sacco quindi chiesa esterno destro esterno sinistro andiamo a mettere ferreira carrasco eccolo qui carrasco sempre baggato su fifa quindi e tranquillamente lo mettiamo lì mi è piaciuto tanto sia per la velocità che per il tiro 88 velocità 81 tiro passaggio 78 85 difesa quindi molto utile molto utile può fare tutto attacca ruba palla un po di tutto ottimo giocatore e all'ultimo mettiamo come attaccante centrale correa ecco qui correa 85 velocità 83 tiro 87 dribbling veramente un giocatore che risulta molti estremamente baggato quindi vi consiglio di provarlo perché risulta davvero baggato per la velocità e per il tiro e il dribbling quindi bellissima intesa tra depai e carrasco e correa la squadra ci viene a costare circa 50.000 un'ibrida fortissima devo dire ci viene un'ottima squadra quindi che dire iscrivetevi al canale se non l'avete fatto mettete tanti like e ciao a tutti da max black